Leo Galilelli, Arienzo, eccoli, c'è la nonce, c'è la nonce, iniziate dal Zappi, e c'è la terza F, ci siete? La mia stella cadente vince il primo premio del concorso del Filippo Anno. Grazie a tutti, a tutti, a tutti, a tutti il primo premio. E' un momento, insomma, la ragazza si è un mossa, la luna, non ci ha mai indicato il nome, allora lo facciamo dire direttamente a lei. Allora facciamo un forte applauso a Noemi.